Il governo dei record, finora tutti negativi, ha conquistato un'altra medaglia d'oro. Quella del record assoluto di sbarchi avvenuto venerdì 24 marzo 2023. Ben 4.500 sbarchi complessivi sulle coste italiane in un solo giorno, e non siamo ancora in estate. Mentre Giorgia Meloni afferma soddisfazione per le intesse raggiunte in Europa a proposito dei migranti, ma non è dato sapere quali intesse siano state raggiunte e soprattutto quando e come diventeranno realtà, posto che nessun paese europeo vuole saperne niente di questi migranti, il record raggiunto venerdì è di quelli epici, si direbbe di proporzioni bibliche. Il tutto mentre procede il disegno del nuovo ordine mondiale, composto come noto dai sionisti, dalla massoneria e dai gesuiti, di provocare la guerra nucleare, posto peraltro che anni fa Bill Gates, da molti soprannominato Kill Gates, ebbe ad affermare che i nuovi vaccini, anche se fatti funzionare alla grande, non erano sufficienti a portare a meno di 3 miliardi la popolazione mondiale, cosa necessaria per controllare le emissioni di anidride carbonica. E il governo Meloni, appoggiando con furore Zelensky e Biden, che sono le principali pedine di questo disegno criminale, ci sta allegramente coinvolgendo in questa guerra, che a ben vedere non ci riguarda proprio per niente. L'Ucraina è una ex repubblica sovietica, che ebbe, durante la perestroica del vile Gorbaciov, il permesso di staccarsi a determinate condizioni, condizioni che poi non ha rispettato, in particolare avvicinandosi alla Nato. E vi è anche da dire che Kiev, la attuale capitale ucraina, fu in passato capitale della Russia, ma tante, è, si salvi chi può. Ricordando a tutti che la Russia, e solo la Russia, possiede la bomba ZAR, oltre 7 mila volte più potente di quella di Hiroshima. Alcuni esperti hanno calcolato che bastano 8 bombe ZAR per distruggere completamente, e per secoli, la vita, animale e vegetale, negli Stati Uniti di America. E molti si domandano come mai gli imbecilli oggi governino il mondo occidentale, e come ciò sia potuto succedere, nel commento al video troverete le anzidette dichiarazioni pubbliche di Bill Gates, e il test della bomba ZAR effettuato negli anni 60. Si salvi chi può. Grazie.